Venerdì C-Comics, continuiamo a parlare di Flash, stagione 7, ultimo episodio. E anche sta stagione del merda ce la siamo levata dalle palle. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica DC Comics, bentornati al Venerdì C-Comics. Continuiamo a parlare di Flash, anche se per l'ultima volta, questo è l'episodio 18 della settima stagione di Flash della CW, dal titolo Hearts of the Matters, Cuore della Materia, il nocciolo della questione, traducetelo come volete, io lo guardo in inglese. L'episodio è fondamentalmente il continuo dell'episodio 17, quindi è come se fosse, 17-18 è come se fossero stati un unico grande episodio, e devo dire che non è esente da lati positivi, infatti andrò a parlare prima proprio di questi lati positivi dell'episodio, poi parlerò dei lati negativi e poi in generale parlò della settima stagione in generale. L'ho detto generale un po' di volte. L'ultimo episodio di questa stagione dura come al solito 45 minuti, ma è in realtà il succo del discorso si svolge in 30-35 minuti, perché ci sono abbondanti dieci minuti finali di epilogo, del classico epilogo marcato della CW, molto romantico, che francamente a me sembra un po' forzato, però nonostante questo, questi 35 minuti non mi sembrano stati gestiti male una volta tanto, una volta tanto, nonostante ci fosse tantissimo da raccontare, in questi 35 minuti sono riusciti a gestire quello che dovevano dire in modo lineare. Ma questo perché? Perché hanno fatto tanti errori in precedenza e ci hanno abituati, soprattutto in questa stagione, a fare le cose perché sì senza portarcici piano pianino, senza dirci perché succedevano le cose. Quindi sulla base di questa cosa che hanno costruito sono riusciti a far fluire molto bene questo episodio. Un vero peccato perché Godspeed, il cattivo conosciuto come August Art, con cui Barry si è confrontato a livello mnemonico, a livello mentale, nel finale dello scorso episodio, con questo dialogo che continua in questo diciottesimo e ultimo episodio, è davvero un cattivo che mi è piaciuto tanto e è un peccato che l'hanno sfruttato davvero pochissimo. Ci hanno semplicemente mostrato un fantoccione bianco per tre stagioni per poi sviluppare questo fantastico carattere solo in una manciata di minuti finali dello scorso episodio e iniziale di questo. Davvero, davvero uno spreco, specie alla luce del fatto di quello che invece ci hanno mostrato per non farci vedere questo fantastico personaggio. Fondamentalmente scopriamo che August Art, come è successo a Flash all'inizio della settima stagione, quindi un pochino si ricollega anche, non hanno fatto proprio schifissimo gli sceneggiatori. Schifo sì, ma non schifissimo. August Art ha bisogno della... quello che cerca è la forza della velocità organica, ovvero quello che Barry è riuscito a far risorgere in questa stagione, non quella artificiale che lui usa. Abbiamo visto anche che anche Barry, quando utilizza la forza della velocità artificiale, viene deumanizzato, non è esattamente più se stesso. Forse è anche per questo che August Art è così cattivo utilizzando la forza della velocità artificiale. August Art crede che con la forza della velocità organica, la vera forza della natura, che è sempre stata presente dall'alba dei tempi, riuscirà a diventare molto più veloce. Dopo un incredibile avanti-indietro di discussioni tra padre e figli velocisti sul fatto che lui non dovrebbe avere la forza della velocità, invece dovrebbe, bla bla bla, alla fine gliela concedono e mi è piaciuto che forse, dico forse, è servito un pochino mostrare la personificazione della forza della velocità all'inizio, nella prima parte della settima stagione. Diciamo che darle un volto, darle una personalità è servito in questo ultimo episodio a farla stare dalla parte dei buoni, a farla collaborare con il team Flash in modo che non sembrasse troppo forzato. Quindi questa cosa non mi è dispiaciuta. Continuo a pensare che comunque la trama della forza della velocità personificata nella figura della madre di Barry, Nora Allen, poteva durare benissimo 3-4 episodi al massimo e non c'era assolutamente bisogno di tutte le altre forze che invece in questo episodio non ci sono state. Quindi, vabbè. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è stato l'attore che ha interpretato Impulso, mi è piaciuto come ha reso il personaggio, come non l'ha fatto diventare una brutta copia di Kid Flash o di Flash stesso, mi è piaciuto il fatto che sia... abbia avuto una caratterizzazione particolare e mi è piaciuto anche il suo rapporto con Jay che, diciamo, abbiamo visto nascere per la prima volta, quantomeno dal punto di vista di Jay Garrick, l'abbiamo visto nascere in questo episodio. Jay Garrick ha un momento con Impulso che poi sancirà la loro amicizia quasi parentale, tant'è che lo chiamerà zio Jay. Mi è piaciuto che ci è stato finalmente l'anti-flash, non è stato solamente un flashback, un ellamente di Barry Allen come si era vociferato, è stato veramente presente nel combattimento. pensavo addirittura che Godspeed e l'anti-flash si alleassero... scusate, che Godspeed e Flash si alleassero per sconfiggere l'anti-flash, invece fortunatamente mi è piaciuto come è andata, cioè che Flash e l'anti-flash si siano alleati per sconfiggere Godspeed perché è davvero troppo forte come concetto, poi come lo hanno gestito ne parliamo dopo. mi ha ricordato un po' lo schema Dragon Ball, cioè quello, il nemico del mio nemico, è mio nemico o qualcosa del genere, i nemici avversari che si uniscono contro un avversario più forte. Lo abbiamo visto in tutte le saghe di Dragon Ball, da cominciare da Junior, Vegeta, poi più recentemente in Super lo abbiamo visto anche con Freezer, che secondo me è un po' troppo forzato. Qua abbiamo visto più o meno la stessa cosa, qui abbiamo visto un personaggio cattivo come Freezer, che è l'anti-flash, allearsi con Barry Allen per sconfiggere un altro velocista. Ma perché? Per due semplici ragioni. La prima è che Iobarton vuole essere il più veloce del mondo, quindi gli dà fastidio che esista un altro velocista come Godspeed, quindi chiedergli di eliminarlo sarebbe invitarlo a nozze. E l'altro motivo è che lui, esattamente come Vegeta, vuole essere l'unico a sconfiggere Barry Allen. Dulcis in fundo una cosa che mi è piaciuta invece è stata la presenza di Sisko Ramon, soprattutto nel finale, come cerimoniere di questo rinnovo dei voti inuziali. Mi è piaciuto tutto di Sisko Ramon di quella parte finale, dalla stola con scritto Star Labs, dal fatto che abbia avuto davvero un bel rapporto da amicone, quasi fraterno con Barry Allen, al punto che giocava con l'emozione di Barry nel rinnovare i suoi voti, dicendogli che appunto quelli di Iris erano meglio, dando i voti alle promesse inuziali. Tutta quella parte di amicizia davvero che buca lo schermo, che va oltre la recitazione tra Sisko Ramon e Barry Allen e Iris West, mi è piaciuta davvero un sacco. Spero di vederla ancora nell'ottava stagione, anche se si sa che Sisko non sarà più così presente come ora. Ma ora passiamo a tutto quello che invece non mi è piaciuto di questa serie e di questa puntata. Allora, innanzitutto, serie di merda! Flash è una serie di merda! Avevano in mano un nemico della Madonna, come Godspeed, e davvero l'hanno gestito di merda. Io, ripeto, l'ho già detto in altri episodi, io posso capire che per la pandemia non possono avere troppi attori intorno. Si è visto che in molti episodi molti attori non erano presenti. Lo stesso attore che interpreta Kid Flash era stato chiamato per i primi episodi della settima stagione, ma non ha potuto muoversi a causa della pandemia perché stava girando un'altra serie tv. Quindi io posso capire le limitazioni date dalla pandemia. Ma, per quanto riguarda il personaggio di Godspeed, questo August Hart, questo attore che era presente negli ultimi episodi, perché non fargli una costruzione fantastica di quello che abbiamo visto essere il suo carattere attuale negli ultimi episodi? Perché non farla lungo tutta la serie? Ok, non vorrei mai che ripetessero la seconda stagione dove c'era questo presunto Jay Garrick che in realtà era Hunter Zolomon a fingere che aveva perso la memoria piuttosto che aveva perso i suoi poteri. Cioè, sarebbe stato un po' ripetitivo. Ok, ma c'erano mille modi per trattare, non lo so, l'ascesa al potere di August Hart nel diventare Godspeed. E in questo caso sarebbe stato ancora più bello vedere nell'episodio finale Io Barton perché avremmo avuto un nemico che cresce durante tutta la serie e un altro nemico che arriva all'improvviso. Così abbiamo avuto due nemici che arrivano all'improvviso senza motivo. Abbiamo avuto tutti questi cloni assurdi di Godspeed che non sono dei residui temporali li hanno proprio chiamati cloni ma anche perché se fossero stati residui temporali sarebbero stati fisicamente dalle persone e invece vediamo che Godspeed li riassorbe al potere di... sembra quasi che abbia il potere un po' come l'Electro di Amazing Spider-Man 2 di diventare lui stesso un fulmine e riassorbire i suoi cloni. Per carità può essere un potere che ha creato vediamo che ogni... anzi mi è venuta in mente un'altra cosa che mi è piaciuta di questo episodio ogni velocista ha una sua particolare gestione della forza e della velocità vediamo che Bart Allen riesce a lanciare delle scariche dei fulmini a forma di stelle ninja vediamo che XS riesce a utilizzare una frusta questa cosa mi è piaciuta molto Jay Garrick usa il suo cappello come Captain America usa il suo scudo aiutandosi con la forza della velocità tutte queste particolarità mi sono piaciute quindi ci può stare che la particolarità di Godspeed sia essere se stesso un'energia a assorbire i suoi cloni ci sta ma potevate spiegarlo meglio avete avuto 18 puntate per spiegarlo ne avete... lasciamo perdere ok le prime 3 che sono della sesta stagione ok avete avuto 15 puntate per spiegarlo mi avete propinato per metà della stagione sta cazzo di Nora forza della velocità che diventa sempre più cupa più scura andate a cagare le altre Steel Force fanno cagare non gliene frega niente a nessuno le avete fatte arrivare e le avete fatte uscire non servivano avrebbe avuto senso se fossero diventati dei comprimari ma no perché avete già troppi comprimari avete già Cester Pirank avete già Allegra al punto che avete dovuto far uscire per alcune puntate Cester Pirank oppure Allegra oppure addirittura Cisco Ramon l'attore se n'è andato probabilmente non ne poteva più di questo schifo davvero davvero una cattiva gestione una cattiva gestione della sceneggiatura si vede troppo che hanno scritto episodio per episodio no non va bene non va bene io capisco che non potevate scrivere tutta la stagione per motivi anche che hanno a che fare con la disponibilità degli attori ma comunque potevate tenervi un canovaccio e eventualmente modificarlo in corso d'opera così davvero è è assurdo poi se vogliamo parlare della puntata in sé vogliamo parlare anche dello scontro a un certo punto tutti e tre sia Godspeed che potrebbe avere questo potere ma anche Flash e l'anti Flash tirano fuori un fulmine che fondamentalmente è una spada laser di guerre stellari e fanno un combattimento di spade laser ma perché? ma perché? ma vi faceva così schifo farli prendere a cazzotti? o usare dei fulmini come dei fulmini? ma perché le spade laser? non ha senso! poi a un certo punto Sisko nel finale cita anche l'impero colpisce ancora quindi cioè ragazzi ma che cosa è? che cosa è? e poi quando l'ha imparato Barry? quando l'ha imparato io Barton? non ha senso piuttosto fate che Godspeed sa fare questa cosa della spada laser e gli altri due hanno un'altra particolarità lo avete fatto con i ragazzetti con Impulso XS non lo fate con Flash e io Barton ma cazzo ma siete stupidi? poi l'entrata in scena di io Barton poteva entrare con un colpo ad effetto mentre viene annunciato da Chester e Allegra credo adesso non so chi io da Chester e Iris cioè che dicono ma è Tone e lo guardano sul monitor ma no non me lo puoi anticipare così ma chi cazzo è che scrive ste cose? cioè Tone è un personaggio della madonna lo devi fare entrare con un'entrata a effetto quella che ha fatto va benissimo ma viene anticipata da Chester che dice ma quello è Tone quello sul monitor ma stai zitto Chester stai zitto Chester no ragazzi non ci siamo non ci siamo assolutamente diciamo che mi è piaciuta un po' la parte finale anche se quella si è stata un po' frettolosa in cui tra l'altro io Barton da dove cazzo arriva? io l'ultima volta che l'ho visto era nella quinta stagione dopo Crisis era praticamente come Voldemort era uno spirito che non aveva un corpo e Nora Forza della Velocità è riuscito a evocarlo diciamo andando ad attingere alla forza della velocità negativa che a quanto pare non è una forza della velocità artificiale come si pensava ma semplicemente la forza della velocità organica ma negativa quindi cioè è la stessa cui può attingere Nora ma allora non potevate fare che la Nora cattiva era la forza della velocità negativa? avrebbe avuto più senso sarebbe stato figo almeno tutto non è cioè tutto non spiegato ma cioè il target ormai è diventato cose ma neanche i bambini delle elementari perché io quando ero alle elementari comunque le spiegavano le cose cioè c'erano i cartoni di merda i film di merda c'erano anche quelli belli che poi quando li rivedi da adulto comunque hanno una spiegazione e qui no qui no è tutto e poi allora è brutto perché all'inizio delle prime stagioni era bello adesso è diventato una merda quindi non è più coerente a se stesso è quello che mi ha da fastidio Killer Frost che ormai da quando si è separata da Caitlin Snow è tutto un fremito per Jill Blaine e in questa ultima puntata non si è neanche vista tanto si è solo vista nel finale che ha una chiacchierata con Caitlin Snow tutto lì hanno invece sviluppato la storia della Kramer e mi è anche piaciuta fondamentalmente era abbastanza telefonata cioè che anche lei fosse una meta umana e mi è piaciuto il fatto che hanno spiegato il suo potere questo è stato coerente cioè hanno spiegato perché non è morta nell'esplosione perché ha assorbito il potere del suo ex compagno d'armi che ha il potere dell'immortalità e con Godspeed ha assorbito temporaneamente il potere di Godspeed è sembrato una velocista questa cosa mi è piaciuta e sono so che la svilupperanno nell'ottava stagione quindi bene sono contento che la porteranno avanti che non è stata gratuita come la prima metà della settima stagione e sicuramente avere un copycat nel team Flash sarà d'aiuto in situazioni di un certo tipo mi è piaciuto che Flash abbia scansato Iobartone quando Iobartone ha cercato di dargli un pugno con la super velocità e Flash si è dimostrato più veloce di Iobartone dicendogli semplicemente mi hai mancato sai perché? perché io sono diventato più veloce e tu no questa cosa mi è piaciuta come ha scalzato Iobartone peccato che per tutta la settima stagione è stato depotenziato Flash non abbiamo visto una crescita del potere di Flash anzi abbiamo visto un Flash che sembrava quasi depotenziato e adesso mi dice che si è velocizzato ragazzi coerenza coerenza non c'è stato un minimo di coerenza ragazzi mi dispiace mi dispiace sono felicissimo che questo sia l'ultimo mio video su Flash della CW annuncio ufficialmente che non farò queste recensioni per l'ottava stagione perché davvero così come non ha avuto successo la serie neanche questi video hanno successo ma perché giustamente non ha senso quindi io continuerò a guardare l'ottava stagione perché è l'ultima quindi per inerzia la guarderò non farò assolutamente dei video non sprecherò tempo per farli magari ci potrei fare delle live su Twitch o in alternativa delle live su Twitch ma ospite di altri quindi comunque sul mio canale YouTube non parlerò più di Flash della CW quindi segnatevi gli altri miei social sono qua sotto in descrizione che quando eventualmente uscirà la prossima stagione di Flash se siete interessati potete seguire i miei pareri da là eventualmente farò delle live IRL o degli shorts vedremo vedremo comunque grazie per avermi seguito fino a qui come sempre con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video il prossimo video della DC Comics sarà tra due settimane e se tutto va bene dovrebbe parlare di The Suicide Squad arrivederci